Due relazioni molto significative, quella di Buonaiuto che ha aperto su un tema complessivo del funzionamento della giustizia, chiaroscuro, è stata un po' la traccia del suo intervento, la parte più critica, la parte degli organici, delle risorse, della richiesta di diritto sempre più significativa da parte dei cittadini e quindi da questo punto di vista ci vogliono più mezzi, però anche tante cose positive che a parte abbiamo anche contribuito a fare per quello che si può, per tutta l'organizzazione degli uffici, l'informatizzazione, quindi per questi aspetti mi pare che è la parte più positiva. Mi pare che c'è stato un tema che è stato affrontato da tutti, che è quello della questione carceraria, riabilitazione della pena, reinserimento, sovraffollamento, quindi un tema curato da tutti con particolare attenzione, un tema molto molto attuale e una delle questioni che Buonaiuto posso e che condivido, ma anche Martuscillo che ha quello dell'ipotesi di trovare le pene alternative, quindi al carcere e il lavoro per i detenuti, quindi sono temi significativi per il mondo della giustizia che sono stati affrontati credo con molta serietà in questa giornata. Siamo un'eccellenza in Italia, siamo una delle regioni guida, abbiamo una fondazione che si occupa di questo, abbiamo una relazione con i comuni dal punto di vista dei progetti e delle iniziative molto significative, continuiamo a farlo con grande determinazione, accompagnati chiaramente dall'azione delle forze inquirenti, della magistratura, delle forze dell'ordine che chiaramente su questo terreno continuano a conquistare straordinario spazio di battaglia e di legalità. Noi speriamo che quest'anno sia un anno diverso per la giustizia che deve tornare a essere un palastro effettivo e fondamentale di uno Stato democratico perché quando non c'è tutelare i diritti non sono diritti rispettati, non c'è prospettiva di un futuro migliore per tutti. L'abbagatura napoletana e italiana si batte per questa effettività, chiederemo ancora oggi maggiori risorse, il prossimo governo e il prossimo Parlamento dovranno decidere se la giustizia è una priorità del Paese o come è stato fino ad ora è un accessorio inutile e questo è un dato grave perché è un vizio grave per la legalità di un territorio come il nostro e per l'effettività della tutela dei diritti che deve essere un valore fondamentale di uno Stato democratico.